La larghezza della cabina è in funzione della sua versione, in modo tale da ridurre al minimo l'ingombra del trattore. La cabina, sospesa su quattro idrosecond bloc, è ben isolata dalla trasmissione, sia per il calore sia per le vibrazioni. La piattaforma piana su tutti i modelli consente una disposizione ergonomica dei pedali e garantisce ampio spazio per le gambe, anche con il modello V. Il piantone dello sterzo è regolabile in altezza e si inclina fino alla posizione verticale grazie al pedale dedicato, rendendo più agile l'accesso in cabina. La cabina di categoria 4 e la corretta pressurizzazione consentano all'operatore di effettuare i trattamenti senza BPI. Un'ottima visibilità è garantita dal parabrezza rotondato, dal pannello posteriore sollevabile e dai fari di lavoro LED fino a 16.000 lumen.